apriamo una lol dance dance dance, chi troveremo? facciamo un giro di scatola giro di ball oh ciao ci prendiamo oh è blu e grigio wow ma quanta roba c'è dentro ah è la mossa, guardate hop 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 giusto 5 o 6 bussine mille mila che bello e voilà guardate quante cose abbiamo trovato bello che è ma che capelli super vediamo che succede e voilà ragazzi ritmo e press in realtà io non so mai pronunciarlo vediamo 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 Grazie.